Gentili telespettatori, buona giornata. Lo scrittore Roberto Saviano se la prende tutti i giorni con Giorgia Meloni. Prima ce l'aveva con Salvini, adesso Salvini non gli interessa più con l'8%, ma ce l'ha con la Presidente dei Fratelli d'Italia. Dice, la Meloni crede in Dio e difende la famiglia, il contrario di quello di cui l'Italia ha bisogno. L'Italia quindi ha bisogno di non difendere Dio e famiglia, ma il contrario. Ha esattamente bisogno il contrario. Lui scrive sulla comunica la stampa estera. Beh, quello che lui pensa di tutti quelli che sono a destra non è una novità. Prima delle elezioni aveva dichiarato che avrebbe lasciato per sempre l'Italia qualora Meloni avesse vinto. Poi la Meloni vince e lui dice i suoi elettori mi dicono di andare via dell'Italia, fanno le liste nere. E qualcuno dice ma scusi ma non era lei a detto che aveva detto che se vinceva la Meloni se ne sarebbe andato definitivamente. Come dire, allora non mantieni le promesse, parole al vento, ma lui da lì ha cominciato a vedere liste di proscrizione con il suo nome. E così in un lungo articolo sul The Guardian, che porta la sua firma, Saviano analizza cosa accadrà all'Italia sotto l'egida di Giorgia Meloni. Quindi un altro che va a sparlare tramite la stampa del nostro paese, cioè va a parlare malissimo del suo paese. Scrive così sul giornale straniero. Giorgia Meloni rappresenta un pericolo per gli equilibri democratici in Europa. La sua leadership sembra essere l'antitesi di ciò di cui l'Italia ha bisogno. Saviano spiega che l'Italia è sempre stata una specie di laboratorio politico. Silvio Berlusconi ha fatto da pripista Donald Trump. Mussolini ha fatto la pripista al dittatore tedesco. Quindi vede che l'Italia è l'inventore di tante cose che ci sono nel mondo. L'autore di Gomorra si sofferma sulla vicinanza tra Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban. Entrambi non solo vogliono annullare i diritti della popolazione ma distruggeranno anche le economie dei rispettivi paesi. Saviano spiega che Meloni come Orban hanno ottenuto il consenso popolare fornendo un finto senso di sicurezza che i cittadini pagheranno con la povertà e la perdita dei diritti come la legge 194 e altri. Solo che la Meloni non ha mai parlato nel suo programma elettorale di togliere i diritti ma lui come ad esempio Crozza che ho visto in un'imitazione fanno intendere che non c'è nel programma ma lo faranno. Dopo un anno, due anni, tre anni ci sono tante cose che non sono nel programma e che questi personaggi politici faranno nei loro paesi. E poi immancabile il confronto tra la leader di Fratelli d'Italia e il dittatore italiano degli anni venti. Meloni dice di non essere fascista ma poi difende Dio, patria e famiglia. È la figura politica italiana più pericolosa proprio perché non evoca direttamente il fascismo, è ambigua, eppure con la sua ambiguità minaccia i diritti delle persone e incoraggia gli xenofobi. Saviano addirittura tempo fa arrivò ad appellare la Meloni in un certo modo, per questo andrà a processo il prossimo novembre. All'indomani della vittoria di Fratelli d'Italia ha accusato gli elettori di centrodestra di volerlo cacciare dall'Italia per alcune battute sarcastiche sui social. Insomma, caro Saviano fa parte di quella sinistra estrema, possiamo dire, di quella sinistra che è accecata dal muro ideologico. Se Saviano si soffermasse tranquillamente a vedere Meloni senza i suoi muri ideologici che ha intorno, vedrebbe tutto in maniera diversa, vedrebbe che non c'è pericolo per nulla. Alla fine ogni Stato decide i suoi leader, fa quello che vuole. Noi siamo uno Stato democratico, non c'è oggi per come è organizzata l'Italia al suo interno, per come è organizzata all'interno dell'Europa e per come è organizzata all'interno della Nato, in Italia non c'è praticamente nessuna possibilità che possa tornare una dittatura come negli anni venti del secolo scorso. Non c'è nessuna possibilità in merito e questo a me sembra una ovvietà, almeno io la vedo così e non credo proprio di sbagliarmi. Pericolo per la democrazia italiana ed europea davvero non lo vedo. Avendo paura di Meloni per la democrazia, questo si potrebbe dire di qualunque premier arrivi in Italia, potrebbe diventare un dittatore, chiunque potrebbe diventare un dittatore, ma non verrebbe permesso in Italia, ci sono dei meccanismi e una società che non permetterebbe mai di instaurarsi un dittatore a Palazzo Chigi, mai e poi mai. Anche se ci sono i teorici che la democrazia poi porta dei dittatori, dalla democrazia si passa alla dittatura, una persona viene prima eletta normalmente e poi smantella tutto lo Stato Democratico per trasformarlo in una dittatura. Questo poteva avvenire nel secolo passato, in quei paesi ancora non pienamente sviluppati come era l'Italia e come era ad esempio la Germania, la Spagna. Ecco, in paesi con una democrazia un po' primordiale dove c'è il re, l'imperatore, insomma è facile anche arrivare al potere con i voti e poi trasformare tutto. Ma oggi questo a mio avviso è assolutamente impensabile, però naturalmente c'è chi pensa queste cose e le penserà sempre come Saviano e tanti altri. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche l'altro canale che si chiama Tele Italia Seconda Rete dove ci sono video di politica, di notizie, di fai da te e poi c'è anche l'altro canale che si chiama In Cucina con Carla dove trovate video di cucina evidentemente. E quindi con il giubbotto da rally ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qua sul canale. Auf Wiedersehen, Goodbye, Hasta Luego, Arrivederci, Adla Adla Adla, è un saluto di un'altra lingua. Arrivederci a tutti e grazie.